State dicendo un mucchio di sciocchezze e girate intorno all'osso senza avere il coraggio di dire quello che pensate. Siete soltanto dei curiosi, curiosi di sapere se quella ragazza è la mia amante, ma se lo fosse lo sapreste da tempo, perché lo sarebbe alla luce del sole, avete capito? Siete dei pettegoli maldicenti, ma altro che moralità, decoro e balle del genere. Ma che stai dicendo, Giacinto? La chiesa non... Beh, ma ha ragione. No, possiamo stare la chiesa, per favore. Lei ha ragione, don Giacinto, ma la nostra è curiosità legittima. Lei è stimato da tutti, la conosciamo come un prete moderno, è simpatico anche ai comunisti. Da amici le domandiamo soltanto, ma chi è questa ragazza stravagante che ospita in casa? E che gira nuda sui tetti, a quanto si dice in paese. Nuda, capisci? Nuda. Oh, e beh, nuda, nuda. Io sono dolente di dare a tutti una delusione, ma questa fanciulla è mia nipote, figlia di un fratello di cui non avevo notizie da trent'anni, morto in Svezia poco tempo fa. Ma come sembra a fine impossibile? In quanto alle sue esibizioni naturiste, non so proprio niente. Ma sarà poi vero? Ma chi l'ha detto questo? Io, io, don Giacinto. L'ho vista io e le assicuro che è un bel vedere, sa? Ma lei non ha altro da fare, scusi. Ma senta, ma bene, ma se davanti alla finestra mi appare una donna nuda, secondo lei che cosa faccio? Chiudo le imposte? Vorrei vedere lei, don Giacinto. Scusi, sa, ma non volevo mica... Giovaide! Comandi, don Giacinto? Chiamo subito mia nipote. Avanti. Nostra nipote sarà anche amata, ma questo signorino qui, don Giacinto, l'è un porco. Per vederla ha dovuto adoperare il binocolo. Eccomi, eccomi, sto arrivando. Salute a tutti. Buonasera. Ma come mai questa visita? Sono mesi che non ci vediamo, no? Beh, vuoi impedirmi di conoscere la nipote? Credo di essere suo zio anch'io, no? Se Anselmo era nostro fratello... Dicele, questi sono amici e questo è lo zio Gaspare, l'altro zio. Io, due zio, tu e... E io, zio Gaspare.